Tentativo di furto questa notte all'Euronics di Ponte Cagnano-Faiano. I malviventi hanno prima rubato un camion ed utilizzato lo stesso per sfondare la saracinesca del negozio. Immediato è scattato l'allarme che ha fatto arrivare sul posto in pochi minuti la pattuglia radiomobile dei carabinieri di Battipaglia, i quali sono riusciti ad evitare che i ladri mettessero in pratica il loro piano. Alla vista dei militari, infatti, la gang ha fatto perdere le proprie tracce dileguandosi nei terreni circostanti. Grazie.